Sospesa domani sabato 28 marzo la raccolta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani a Sciacca a causa dell'impossibilità di conferire nell'impianto di compostaggio di Contrada Santa Maria. L'amministrazione comunale raccomanda di non uscire domani i mastelli dei rifiuti con la frazione organica. Si intensifica l'attività di vigilanza della Polizia Municipale di Sciacca con personale nuova strumentazione per il rispetto delle ultime misure di contrasto e contenimento della diffusione del coronavirus. Dalla prossima settimana sarà utilizzato anche un drone per il controllo del territorio dall'alto e per poter intervenire nell'immediatezza in caso di situazioni vietate per legge come gli assembramenti. Il servizio sarà attivato grazie alla collaborazione del cameraman Saccenza Cursio Puleo e dopo la recente autorizzazione ai comuni dell'Enac. Secondo i dati forniti dal comando Giovanni Fazio, dal 12 al 26 marzo sono state controllate 921 persone a Sciacca con segnalazione all'autorità giudiziaria di 29 soggetti per spostamento ingiustificato. I controlli delle attività commerciali sono stati 320. Da ieri sera, ricorda la Polizia Municipale, sono scattate le nuove sanzioni con verbali che vanno da 400 a 3.000 euro. Nuova direttiva dell'amministrazione comunale di Sciacca per lo svolgimento del mercato ortofrutticolo di Via Pompei che richiama le misure di contenimento e gestione dell'emergenza coronavirus. Prevista la disinfezione e sanificazione degli ambienti di lavoro, l'attivazione di protocolli di sicurezza anticontaggio mediante l'adozione di dispositivi individuali di protezione, il rispetto della distanza interpersonale tra i lavoratori e tra gli stessi e i grossisti che accedono al mercato. Disciplinata anche l'attività all'interno dell'area, la domenica è consentito lo scarico della merce dalle ore 16.30 alle 19.30, il lunedì la vendita dalle ore 5, il martedì e il giovedì lo scarico merce dalle ore 9 alle 11 e dalle ore 13.30 alle 15 quando inizierà la vendita. Il mercato ortofrutticolo di Sciacca rimane chiuso nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato. La Commissione Sanità del Consiglio Comunale di Sciacca, presieduta da Carmelo Sant'Angelo, ha posto all'amministrazione il problema della raccolta dei rifiuti per le persone che sono in quarantena e che da giorni non ricevono il servizio del porta a porta essendo considerati rifiuti speciali. La Commissione ha chiesto al Sindaco di attivare immediatamente il servizio di ritiro della spazzatura per le persone risultate positive o in quarantena, per evitare loro anche problemi igienico-sanitari di questo tipo. La città di Sciacca si aspetta dal Governo regionale un potenziamento dell'ospedale, della terapia intensiva e subintensiva. Lo dichiara Nuccio Cusumano di Italia Viva in riferimento all'emergenza che il territorio sta vivendo. Cusumano sollecita l'incremento dei posti letto e del personale medico-infermieristico al Giovanni Paolo II e auspica che la scelta dell'ospedale Covid escluda quello di Sciacca per le importanti e complesse unità operative di cui è dotato. Auspica una forte presa di posizione in proposito a tutti i livelli, ha concluso l'ex parlamentare. La sospensione o annullamento dei ruoli da parte del Consorzio di Bonifica è quanto chiedono le organizzazioni professionali agricole e i comitati spontanei degli agricoltori per alleviare la crisi del comparto agricolo legata all'emergenza Covid-19. Le organizzazioni agricole e il Comitato spontaneo degli agricoltori di Sciacca hanno anche chiesto che il pagamento del costo dell'acqua venga effettuato alla fine della campagna irrigua e che si rivedano i costi del Consorzio di Bonifica che non possono ricadere sul mondo agricolo. Nuova iniziativa del Sindaco di Ribera Carmelo Pace per tentare di frenare la diffusione del virus limitando al massimo gli spostamenti. L'amministrazione riberese sta predisponendo un elenco delle attività commerciali autorizzate a rimanere aperte e disponibili ad effettuare le consegne a domicilio senza oneri aggiuntivi per l'utente. Il Sindaco Pace ha invitato commercianti e titolari di attività di ristorazione a comunicare la loro disponibilità compilando apposito modulo che si trova sul sito internet del Comune per essere inseriti nell'elenco. Diamo una mano alle famiglie in difficoltà attraverso il Centro Operativo Comunale e la richiesta inoltrata al Sindaco Carmelo Pace dal Movimento 5 Stelle di Ribera. I 5 Stelle chiedono che attraverso personale qualificato al Centro Operativo Comunale fornisca alle famiglie in difficoltà supporto sanitario e sociale. Un tavolo di consultazione tramite modalità telematiche con i consiglieri comunali di Ribera affinché le scelte e le decisioni difficili siano condivise e quanto hanno chiesto invece Francesco Montalbano e Ina Piccarella. Al di là delle posizioni politiche di ciascuno di noi dichiarano la grave situazione che stiamo vivendo impone scelte condivise soprattutto se riguardano la sanità del territorio. Le elezioni amministrative in Sicilia potrebbero slittare al prossimo autunno. Previste per il 24 maggio prossimo erano state bloccate dal Governo regionale e rinviate data da destinarsi. Si profila l'ipotesi di uno slittamento a ottobre-novembre. In provincia sono interessati i comuni di Ribera e Agrigento. Grazie a tutti.